Altra puntata dell'Angolo del Libro. Quest'oggi parliamo sempre di un testo scritto dal professor Fabio Procacciante che è il nostro gradito ospite e anche gradito ospite da parte dei telespettatori che ci invitano nel loro salotto per parlare, per discutere, per capire. Il libro si chiama Evoluti per caso. Ora questa è la seconda puntata perché l'altra volta il tempo non è bastato per parlare di tutto ciò che c'è in questo libro e altro. Il lungo viaggio dell'evoluzione, quindi è la seconda trasmissione che dedichiamo a questo libro del professor Procacciante. Evoluti per caso l'evoluzione dai batteri sino a Leonardo da Vinci con il suo uomo vitruviano. Ho però prima di iniziare solamente un accenno a domenica, nel giornato del 15, 16 e 17 marzo, verranno distribuite nelle 4.800 piazze italiane le uova di Pasqua AIL. Queste uova di Pasqua naturalmente servono per finanziare la ricerca sull'eucemia, linfomi e mieloma. A me piace spesso ricordare questa frase, ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo. Quindi il 15, 16 e 17, tornano in 4.800 piazze italiane le uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 31esima edizione. Questi appunti, queste cose, le uova presenti qui in studio, ci sono state fornite dall'ufficio stampa, Spinelli in particolare, ad esempio dell'AIL. L'ematologia italiana, attraverso centri di cura e grazie all'opera quotidiana di 83 sezioni provinciali e dei suoi 16.000 volontari, garantisce continuità assesenziale e terapeutica. E veniamo adesso al Professor Procacciante. Il protagonista di questa trasmissione, il pianeta Terra, si è formato in 5 miliardi di anni insieme al Sistema Solare. Dai batteri si sono sviluppate forme di vita più evolute, passando da spugne, meduse, pesci e poi eccetera. La linea rossa che congiunge batteri e coleotteri agli esseri umani. L'asteroide che ha istinto i dinosauri lasciando campo libero ai mammiferi, 65 milioni di anni fa. La deforestazione dell'Africa orientale che ha costretto le scimmie a scendere dagli alberi, 5 milioni di anni fa. Cioè, ecco, ci sono questi due avvenimenti che ci portano praticamente a dove ci siamo fermati l'altra volta. Cioè, quando appare l'Homo sapiens, che peraltro ha poi sostituito, che è l'Homo triandertal e così via, l'Homo erectus e quindi adesso l'Homo sapiens. Quindi diciamo che noi ricominciamo a parlare di questo problema, però sintetizziamo, il Professore se lei è veramente buona, sintetizziamo brevemente ciò che abbiamo detto nella prima puntata. Quando abbiamo iniziato dicendo che la Terra si è formata 5 miliardi di anni fa. E poi, dopo un miliardo di tempo per raffreddarsi, è iniziata la vita. Lo dicemmo che... Quindi da 4 miliardi di anni fa, quando, come dicevo, quel sommo scienziato, datemi un 4 miliardi di anni, io un coleottero lo trasfumo nella mia sapiens. Esatto. Dico bene? Esatto. 4 miliardi di anni fa, quando la vita è iniziata, si è ripetuta e riprodotta, più o meno uguale a se stessa, per tantissimo tempo. A un certo punto ha aumentato la sua complessità e quindi da delle forme batteriche, unicellulari, siamo passati ai pluricellulari, poi ai pesci, sappiamo tutti che la nostra origine era nell'acqua. Gli anfibbi hanno avuto questa capacità di trasportare la vita dall'acqua sulla terraferma. Dagli anfibbi si sono evoluti i rettili. I rettili sono molto importanti perché hanno dato luogo alla formazione dei dinosauri, che per definizione sono dei rettili mostruosi. E dai dinosauri si sono evoluti gli uccelli. Ma sempre dai rettili poi vengono i mammiferi. E quando lei ha parlato delle uova, mi è venuto in mente che i mammiferi, in che cosa si sono differenziati? Fondamentalmente perché hanno modificato l'uovo, che anziché essere poi abbandonato all'esterno, lo ha ammorbidito sotto forma di placenta e siccome è la parte più preziosa per una mamma, viene costudito all'interno del proprio ventre. E questo è un passaggio che si è rivelato particolarmente fortunato nella storia dell'evoluzione, perché i mammiferi con questa modalità non solo non abbandonano le uova all'esterno del proprio corpo, ma poi hanno la possibilità di alimentarlo attraverso l'alimentazione mammaria. E questo consente alla mamma di non doversi allontanare perché può da se stessa non solo fornire alimentazione, ma poi il latte modifica la sua composizione a secondo delle esigenze ambientali, per esempio il latte dei mammiferi artici è molto più ricco di grassi che non il latte. Certo, perché devono sopperire al discorso termico, no? E quindi il mammifero ha queste due prerogative di poter, ed è stato un vantaggio evolutivo importante, di poter essere alimentato in funzione di quella che è la situazione ambientale. Adesso parliamo di un fatto importante, cioè dal momento in cui le scimmie diventano esseri umani. Siamo a 5 milioni di anni fa, quando in Africa orientale, attenzione orientale, perché dopo vedremo, perché in altre zone del pianeta le scimmie sono rimaste scimmie, quindi quando il clima si inaridisce, la foresta si frammenta, sostituita dalla savana. Le scimmie sono costrette a scendere a terra e competere con aggressivi predatori meglio dotati. Ecco, la scimmia è costretta dagli eventi esterni a trasformarsi in essere umano. A lei, professore. Ecco, questo è stato un momento in cui le nostre lontane cugine si sono trovate in una necessità di modificare il loro ambiente in cui erano notevolmente svantaggiate rispetto ai predatori di savana, che sappiamo i felini, i canidi, quindi i leoni, i leopardi, iene, licaoni e l'ominide di allora era totalmente disarmato perché la sua anatomia si era conformata per vivere bene sulla chioma degli alberi, che è un luogo particolarmente sicuro, ha le sue fonti di alimentazione nella frutta, nelle foglie, e quindi puoi vivere tranquillamente e l'anatomia è sufficiente per provvedere al tuo sostentamento. Nel momento in cui si sono trovati, venendo meno la foresta e quindi scendere a terra è stata una necessità, questo fatto di avere una intrinseca debolezza è stato il momento di svolta, ovvero l'occasione di trasformare una debolezza in un punto di forza. In che senso? Nel senso che quegli strumenti di cui era sprovvista l'assetto anatomico li ha dovuti in qualche modo immaginare, li ha dovuti realizzare e ha dovuto insegnare come farlo. Tutte queste attività, quindi immaginazione, insegnamento e apprendimento passano attraverso il cervello. E la conferma di questo è che mentre le scimmie antropomorfe in Africa equatoriale si sono modificate poco e niente in questi 5 milioni di anni, il cervello delle nostre antenate piano piano è aumentato di volume passando da circa 350 mg di volume a 1500 mg che è il volume, il peso attuale del cervello. Perché questo? Perché siamo passati da una situazione in cui abbiamo abbandonato l'istinto perché la maggior parte degli animali avendo nella loro anatomia tutti i mezzi il cervello serve solo a farli funzionare al meglio. I nostri antecedenti invece mancando di questi mezzi anatomici il cervello se li è dovuti inventare e quindi è stata questa nostra debolezza, è stata una palestra che ha consentito al cervello di aumentare il suo volume ovvero la sua quantità di neuroni e questo ha fatto sì che oggi la nostra specie ha queste prerogative che gli hanno consentito di diventare egemoni nel pianeta. Quale elemento è stato più importante per la nostra evoluzione? Manualità? Linguaggio? Disponibilità energetica? Allora non c'è dubbio che una volta scesi a terra ci siamo dovuti alzare sulle zampe reinventarci un'altra volta sulle zampe posteriori e poi inventarci. Abbiamo avuto la diciamo opportunità di avere la disponibilità delle mani con le quali abbiamo iniziato a costruire quegli strumenti di cui la nostra anatomia era sprovvista naturalmente inizialmente ci siamo limitati a scheggiare le pietre poi che è stato il primo utensile manufatto da diciamo i nostri antenati. Com'è questa scritta che ci manda la nostra regia con il cioppe di Old One? Allora la scheggiatura delle pietre pure questa ha subito una sua evoluzione perché prima erano scheggiati solo su un lato avevano la forma di una migdala poi in un periodo successivo sono state scheggiate su due lati perché si è capito che funzionavano me armi di attacco la cosa interessante è che per passare dalla scheggiatura da un lato a due lati abbiamo impiegato un milione di anni perché l'evoluzione cammina con tempi lentissimi all'inizio e poi dopo diciamo la velocità è esponenziale ma questo l'abbiamo visto pure sull'informatica 50 anni fa avevamo dei computer rudimentali in 50 anni abbiamo i telefonini che sono più efficienti del calcolatore elettronico con cui la navicella spaziale è atterrata sulla luna il nostro telefonino e quindi l'altro mezzo è stata la comunicazione verbale perché scendendo dagli alberi dove la vita si svolge prevalentemente in maniera individuale scesi a terra per confrontarsi con le mandrie quindi cacciare degli animali di grossa taglia o per la comunicazione verbale quindi la comunicazione verbale è fondamentale nel gruppo per svilupparsi questo tipo di funzione le corde vocali la laringe si è dovuta abbassare di un paio di centimetri noi siamo l'unica specie che ha avuto questa modificazione e il nostro linguaggio è bitonale perché noi le vocali le elaboriamo nel laringe cioè nella parte inferiore del canale respiratorio e poi nel cavo orale articoliamo le consonanti questa fonazione bitonale ci ha consentito il linguaggio che il linguaggio ci permette una comunicazione che è molto più precisa nella vita di gruppo devi dare informazioni e capire informazioni molto precise e dettagliate quindi manualità comunicazione verbale quindi linguaggio nel frattempo si è modificata la dieta perché sugli alberi la dieta era foglie e bacche qualche frutto invece con la dieta carnea si incamerano molte più calorie poi naturalmente la dieta varia a secondo delle latitudini ma poi abbiamo imparato a gestire il fuoco il fuoco generalmente mette paura agli animali quando noi abbiamo imparato a gestirlo abbiamo cotto gli alimenti gli alimenti cotti sono più digeribili e questo significa che abbiamo bisogno di mandare meno sangue nell'apparato digerente perché si digerisce più facilmente e quella quantità di sangue risparmiata alla digestione viene convogliata al cervello che pur pesando circa il 3% del peso di un organismo consuma più del 20% di energia e quindi manualità linguaggio e disponibilità energetica hanno notevolmente incrementato questo organo che fino a qualche milione di anni prima era stato abbastanza poco utilizzato senta come funziona il cervello umano e cosa collega i batteri Leonardo La Vinci sono due cose simili ma che dobbiamo unificarle per motivi temporali di qualcuno Allora per molto tempo si è pensato che il cervello fosse un'entità il cervello e quindi il pensiero l'intelligenza fosse un'entità che ci rendeva diversi e superiore agli altri animali ora questo mito è venuto meno perché l'intelligenza artificiale ci insegna che l'intelligenza non è qualcosa di misterioso e peraltro mi scusi ma la nostra regia sta passando queste cose che mi semblano particolarmente interessanti cioè vedere come il nostro cervello in realtà si muove o meglio come gli sistemi android e la memoria solida si muovono come si muove il nostro cervello allora hanno copiato non sappiamo chi ha copiato chi però sappiamo senz'altro che se noi compriamo un telefonino al negozio il telefonino ha un suo sistema operativo molto semplice e un po' di memoria per farlo funzionare poi siamo noi che lo riempiamo di informazione perché inseriamo i numeri di telefono ormai tantissime foto filmati musiche alla fine il telefonino non è più quello che noi avevamo comprato ma è tutto quello che noi ci abbiamo messo dentro cervello è esattamente la stessa cosa noi riceviamo geneticamente quindi il dna ci consegna 86 miliardi di neuroni che poi sono collegati tra loro e un sistema operativo molto semplice tutto il resto noi lo incameriamo dal primo vagito fino all'ultimo respiro della nostra esistenza con una quantità che è sbalorditiva perché noi incameriamo un milione di informazioni al minuto noi siamo qui forse da una ventina di minuti ci abbiamo 20 milioni di informazioni in più di quando ci siamo seduti ma la notte le perdiamo però non ho capito la notte le perdiamo per fortuna che in parte le cancelliamo tant'è che anche il telefonino ogni tanto ci viene detto di togliere un po' di roba perché se no la memoria poi si intatta durante il sonno noi cancelliamo circa il 20% un quinto delle informazioni ma noi oggi ricordiamo probabilmente i compagni di scuola delle elementari il che vuol dire che nel nostro cervello è raccolto tutto quello che è stata la nostra esistenza possiamo avere qualche difficoltà a recuperare queste informazioni ma le informazioni ci sono stanno dentro è molto più difficile dimenticare che non ricordare perché quello che noi abbiamo incamerato rimane là naturalmente rimane non solo un bel paesaggio un tramonto suggestivo ma magari pure una riunione di condominio un po' noiosa e per di tempo c'è tutto dentro e con l'età un po' si perde questa capacità che non tanto di ricordare quanto di portare a memoria cioè se uno non fa attenzione a alcune cose quel milione di informazioni al minuto pian piano diminuisce specie se le cose e questo è importante non hanno toccato la sfera delle emozioni perché noi ricordiamo di più le cose che più ci hanno emozionato anche di fatti diciamo sempre che le persone anziane devono darsi da fare devono continuare a fare per esempio mia madre mia suocera erano avide divoratrici di settimana leghimistica per esempio che è un'ottima palestra per la mente oltre mia madre poi era appassionata a cento anni si divertiva lo sport tennis sci e così via leggeva tutti i dati e così via lo sci il tennis vanno bene per la nostra muscolatura le parole incrociate o comunque la lettura sono la palestra del nostro cervello allora una sfida terribile una mission impossible cosa collega i batteri all'onorato la vinci in due minuti perché intanto perché abbiamo utilizzato ho utilizzato Leonardo come punto di riferimento beh perché diciamo l'uomo vitruviano è il simbolo di Homo sapiens ma perché poi lui è l'autore anche di per esempio Mona Lisa è un emblema della pittura planetario durante la pandemia in Giappone in Giappone si vedevano le immagini di Mona Lisa con la mascherina per invitare i giapponesi a mettersi quindi hanno utilizzato un'immagine con un simbolo perché è un nostro compaesano ma è un simbolo però Leonardo da Vinci è anche l'immagine dell'imperfezione e che perfettamente si adatta alla figura umana perché noi siamo complessi ma la complessità è anche imperfezione e beh dai batteri a Leonardo intanto perché siamo fatti con la stessa materia batteri piante animali siamo tutti siamo tutti fatti con gli stessi atomi con le stessi amminoacidi e quindi le proteine che sono i mattoni della vita sono fatte con 20 amminoacidi gli stessi per tutti gli esseri viventi e poi perché funzioniamo tutti allo stesso modo il DNA contiene le informazioni le trasferisce nel RNA l'RNA fa le proteine e lo fa questo meccanismo nelle piante nelle farfalle negli elefanti viventi e nel lago e questo è per dire che con il codice genetico di tutti i viventi è scritto con quattro lettere e non ultimo il collegamento tra batteri e noi diciamo umani è che nel nostro DNA c'è per chi lo sa leggere i biologi molecolari c'è scritta tutta la nostra storia da quando eravamo batteri e abbiamo incamerato lo dicevamo l'altra volta i mitocondri che erano pure loro dei batteri ma ci erano utili e quindi abbiamo stabilito un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma poi durante tutto lo sviluppo embrionale noi ripetiamo tutto quello che siamo stati quando eravamo pesci poi anfibi poi rettili e poi mammiferi e sapiens che ripeto ancora una volta non sta per sapiente ma per chi ha consapevolezza di esistere senta come mai un ordinario di chirurgia generale che ha fatto più di 10.000 interventi si è così appassionato alle teorie evoluzionistiche come si chiama e beh perché dopo aver lavorato dentro l'organismo a un certo punto vuoi andare oltre e quindi si crea questa diciamo interesse per vedere le cose in maniera un pochettino più ampia e quindi questo ha soddisfatto ma devo dire che mi soddisfa perché questo argomento non è di soddisfazione solo per me ma quando ne parlo perché in fondo poi parlo di ognuno di noi ah certo della nostra vita della nostra vita le nostre origini e quindi parla dell'epigenetica no cos'è allora l'epigenetica l'epigenetica sarebbe la parte più importante noi fino adesso siccome 70 anni fa fu scoperto il DNA più che scoperto fu ben definita la sua struttura poi tutte le ricerche si sono orientate sulla genetica ma la parte più importante di noi è quella che noi come dicevo all'inizio andiamo incamerando nel corso dell'esistenza e sono tutte quelle informazioni gli stati d'animo ma pure gli stati d'animo hanno un riscontro organico biologico nulla è lasciato come dire evanescente tutto è scritto ed è scritto con le lettere con parole frasi periodi capitoli e volumi giusto? esatto esatto e quella lì ci tengo a dire non è un'immagine casuale perché mia nipote però un paio di anni alcuni anni fa professor Procacciante lei è stato gentilissimo è stato sicuramente un ospite molto molto gradito dai nostri tre spettatori che io come amo dire ci hanno ospitato nel loro salotto per stare insieme a noi e per imparare con lei veramente delle cose molto molto interessanti poi alla portata di tutti con i scimmioni dinosauri diluvio universale savana scimmioni che scendono dagli alberi è una cosa molto interessante senti comunque io credo adesso troveremo col tempo qualche settimana vediamo adesso come ci organizziamo troveremo qualche altra cosa da dire sicuramente partendo da questo libro degli argomenti che magari non abbiamo approfondito bene io la ringrazio veramente tantissimo sono io che ringrazio lei degli amici direte oro perché lei è stato veramente un vanto per noi di aver parlato di queste cose così interessanti e quindi allora grazie a lei e ovviamente ringraziamo anche i nostri ospiti coloro che ci hanno ospitato nel loro salotto come chiamano spesso dire spero che anche questa trasmissione dell'Angolo del Libro sia stato di loro credimento di nuovo grazie arrivederci e continuiamo con le altre trasmissioni della nostra emittente grazie a tutti 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 grazie a tutti